Ci troviamo sul Lago Dito e parleremo della leggenda del Fantasma di Elettrice e del Castello del Lago Dito. In questo castello non si combattevano battaglie con spade e lance tra ricchi, conti e duchi, ma si combatteva una battaglia che si chiamava la sfida della carne tra avventori e ragazze. In questo posto mi è venuta una leggenda bellissima che mi ha fatto morire da ridere, che raccontava che questo posto, famosissimo negli anni 80-90, uno dei posti di intrattenimento del Lago, nonché della provincia di Brescia, dove c'era uno scambio import-export tra avventori e avventrici. Qui, in questo castello, si racconta la leggenda della Fantasma di Elettrice. Qui, una di queste ragazze che aveva lavorato qui, con sdegno se ne andò via, e la leggenda narra che in una notte, prima di morire, disse questo castello andrà a rogo, questo posto andrà a rogo. E infatti, come vedete ora da queste immagini, il castello andò a rogo. Una leggenda degli anni 90, però mi ha fatto molta impressione e soprattutto è anche per vedere lo sfascio di uno dei locali per la tonomase del Lago Dito della provincia di Brescia, per chi era in fedelo, per chi cercava una trasgressione. Vedetevi questo video e niente, un saluto dal Lago Dito e dalla sua leggenda del Fantasma di Elettrice. Attenti che passa di qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.